Vinum in Bolano è la nuova iniziativa del Comune di Bolano, perché è stata fatta? Sì, è un'iniziativa voluta dall'amministrazione del Comune di Bolano, in primis dal nostro sindaco Alberto Batilani e ha come scopo valorizzare i nostri produttori che fanno parte del territorio del Comune di Bolano e abbiamo voluto dare la possibilità di estenderla anche a quelli della provincia. Quando ci sarà e a chi è rivolta? Vinum in Bolano ci sarà sabato 4 giugno dalle ore 17.30 alle ore 24, è aperta a tutti. L'unico obbligo è quello di acquistare presso lo stand direzionale un calice con tre degustazioni che potranno essere consumati presso i vari produttori.